ci riunimmo in una camera di albergo eravamo quattro amici in un incontro di uomini di affari tutte persone influenti e conosciute nella nostra città ci riunimmo in una camera di albergo e presto ci mettemmo a parlare delle nostre debolezze io per esempio disse uno di noi un noto commerciante che godeva fama di astemio confesso di avere una debolezza mi piace bere ma non permetto che questo disturbi il mio lavoro una volta ogni tanto vado a pesaro in un posto vicino dove non mi conosce nessuno mi chiudo in una camera d'albergo prendo una bella sbornia e poi me ne torno a casa come se nulla fosse accaduto il mio debole invece sono le donne di sio di tanto in tanto mi pago una puttanella giovane e me la faccio poi me ne torno soddisfatto in famiglia dove nessuno sa nulla il mio debole sono il gioco e le scommesse dei cavalli disse il banchiere quando vedo l'occasione rischio qualche migliaio di euro non molto spesso ma una volta ogni tanto devo cedere alla mia debolezza ora tutti guardavamo il quarto componente del gruppo che non sembrava disposto a parlare e tu non hai vizi chiedemmo io io non voglio parlare disse per prendere tempo noi lo guardammo curiosi che vizio terribile voleva nascondere insistemmo e alla fine gli dicemmo che il suo era un modo di comportarsi vigliacco nei nostri confronti che avevamo confessato i nostri vizi con tanta sincerità se proprio volete saperlo disse il quarto a malincuore ho una specie di nausea che mi sta soffocando per i comportamenti involuti e non vedo l'ora di uscire da questa stanza soffocando per i comportamenti involuti e non vedo l'ora di uscire da questa stanza soffocando per i comportamenti involuti e non vedo l'ora di uscire da questa stanza